La lezione odierna ha ad oggetto la disciplina dei singoli tipi dei titoli di credito. Nella precedente lezione abbiamo visto in generale qual è la funzione dei titoli di credito. In questa lezione, che ha un carattere puramente sommario, ci porremo l'attenzione sui tipi di titoli di credito che esistono nel nostro ordinamento. E ovviamente sarà una lezione che avrà specifico riferimento non alla disciplina dei titoli di credito nella sua completezza, ma ovviamente a quel profilo più rilevante sotto un ambito prettamente civilistico che è quello relativo alla circolazione del credito. Abbiamo visto nella lezione precedente che il titolo di credito, in relazione alla incorporazione in un documento, circola non più secondo le regole tipiche della circolazione del diritto soggettivo relativo, cioè del diritto di credito, ma circola secondo le regole della circolazione dei beni mobili, cioè la circolazione della cosa, del documento, nella quale è incorporata il titolo. Nel nostro ordinamento si danno tre diversi tipi di titoli di credito e, a seconda, come dire, dei tre diversi tipi di titoli di credito, variano in parte le regole per la circolazione dei titoli. I titoli di credito che si danno nel nostro ordinamento sono tre tipi principali e sono i titoli al portatore, i titoli all'ordine e i titoli nominativi. Cominciamo con la tipologia dei titoli al portatore. Ovviamente, con riferimento a ciascun titolo, ciò di cui ci occuperemo sarà quello di evidenziare quali sono le caratteristiche, i presupposti perché un soggetto si possa considerare possessore e quindi in che modo si realizza il trasferimento. Come ricorderemo, la caratteristica tipica del titolo di credito sta nel fatto che colui che ne abbia il possesso qualificato legittimo può esigere da parte del debitore la prestazione. Quindi bisogna vedere in che cosa consiste effettivamente questo possesso legittimo. Cominciamo, come dicevo, dai titoli al portatore. Come dice la stessa parola, sono dei titoli nei quali non è neppure indicato chi è il primo prenditore o, se volete, il primo soggetto, il creditore. Un esempio classico che si faceva e che si fa in genere con riferimento ai titoli di credito è sicuramente quello del danaro. Se noi pensiamo, come dire, alle banconote, le banconote in realtà rappresentano dei titoli di credito al portatore. Perché titoli di credito al portatore? Perché attribuiscono un diritto di credito al valore portato dalla banconota a chiunque si trovi in possesso della banconota. Per trasferire la banconota è semplicemente sufficiente che io consegni la banconota. Tant'è vero che chi trova una banconota in realtà ne acquista la proprietà. Ovviamente ne avrà acquistato la proprietà per apprensione. E allora cominciamo a vedere la legittimazione. Chi è il soggetto che è legittimato a esercitare il diritto? Cioè la questione della legittimazione ci indica a quali condizioni un soggetto può pretendere da parte del debitore cioè di colui che nel titolo risulta il debitore che il debitore esegua nei suoi confronti la prestazione. Quindi con l'espressione legittimazione legittimazione a ottenere la prestazione alla quale si è impegnato il debitore. E qui, come dire, la risposta è anche molto semplice perché la legittimazione nel titolo al portatore, che è il titolo più semplice, è data dal solo possesso. Cioè è necessario e sufficiente che un soggetto abbia il possesso, la materiale disponibilità del titolo perché possa esigere, possa pretendere da parte del debitore cioè colui che nel titolo risulta il debitore la prestazione In genere, infatti, nel titolo di credito indichiamo un emittente che sarà il debitore o colui che emette il titolo e che si impegna a eseguire la prestazione e poi ci sarà, come dire, il creditore che se volete può essere il primo prenditore cioè il primo soggetto a favore del quale viene messo il titolo e poi ci saranno, come dire, i successivi possessori Tant'è vero che la regola più semplice dei titoli del portatore è che il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo Questo significa che in caso di titoli di credito al portatore affinché un soggetto possa esigere, possa pretendere l'adempimento dell'obbligazione di cui il titolo è rappresentativa è necessario e sufficiente che abbia il possesso del titolo e quindi che presenti il titolo al debitore e al debitore esiga la prestazione Se per la legittimazione è necessario e sufficiente il possesso vediamo che cosa è necessario per il trasferimento cioè in che modo riusciamo a realizzare una circolazione del titolo del credito che dire come circola il titolo di credito significa come circola il credito È ovvio che se per la legittimazione è necessario e sufficiente il solo possesso per il trasferimento si realizza attraverso la consegna del titolo Ovviamente in genere la consegna del titolo come dire costituisce un momento esecutivo di un precedente accordo Tuttavia perché si trasferisca il diritto di credito è necessaria e sufficiente la semplice consegna del titolo È necessaria e sufficiente la semplice consegna del titolo perché nel momento in cui viene consegnato il titolo si ipotizza che il soggetto al quale viene consegnato avrà la legittimazione all'esercizio Ed in effetti se voi pensate come dire all'esempio più classico vi dicevo di titolo di credito al portatore che per l'appunto è il danaro, le banconote affinché io trasferisca il valore della banconota a un altro soggetto è necessario e sufficiente che io consegni la banconota Poi ovviamente ci dovrebbe essere una giustificazione io consegno la banconota perché voglio fare un regalo consegno la banconota perché sto pagando un prezzo consegno la banconota perché ho ricevuto un servizio la banconota mi viene rubata la circostanza che mi venga rubata esclude che colui che si trovi nella disponibilità della banconota ha commesso un fatto illecito del quale deve rispondere non di meno in quanto si trova nella disponibilità della banconota può esigere la esecuzione della prestazione ovviamente come capite i titoli del credito al portatore sono dei titoli come dire in cui la circolazione è estremamente semplificata e quindi il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere messo al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge cioè a dire le ipotesi di titoli di credito al portatore sono particolarmente limitate nel codice inoltre non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti cioè a dire che cos'è l'ammortamento l'ammortamento è quella procedura con la quale un soggetto il quale dichiara che il proprio credit il proprio titolo è stato smarrito o gli è stato sottratto chiede come dire che venga annullato quel titolo e che in cambio ne venga prodotto uno nuovo poiché però il titolo al portatore è un titolo tale per cui colui che si trova con il possesso alla legittimazione all'esercizio è evidente che come dire una regola di contrapunto è una regola secondo la quale non è ammesso l'ammortamento come dire il rischio di un eventuale smarrimento o il rischio di un eventuale sottrazione il legislatore lo pone interamente a carico di colui che nel momento in cui si verifica il fatto dello smarrimento o il fatto della sottrazione ne aveva il possesso quindi se il legislatore ammettesse come dire lo smarrimento distribuirebbe il rischio invece nel momento in cui il legislatore dice l'ammortamento non è ammesso in realtà riversa integralmente il rischio dello smarrimento o della sottrazione in capo al soggetto che ne aveva il possesso quando il titolo è stato smarrito quando il titolo è stato sottratto quindi come dire se io sono possessore di un titolo il titolo mi viene sottratto avrò perso il titolo l'unica cosa che potrò fare nell'ipotesi in cui eventualmente individuo colui che lo ha sottratto è di agire contro colui che lo ha sottratto e ovviamente agirò con un'azione tipica che è l'azione della responsabilità civile per fatto illecito da che lui ha commesso nei miei confronti un fatto illecito che mi ha cagionato un danno che per me è pari al valore del titolo di cui mi ha privato infine ultima regola se il possessore è ancora nel possesso del titolo quindi il titolo non è né smarrito né sottratto ma però è deteriorato ed è tanto deteriorato che non è più idoneo alla circolazione ma è sicuramente identificabile ha diritto a ottenere da parte dell'emittente verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese un titolo equivalente quindi se per esempio io ho un titolo al portatore questo titolo al portatore è rovinato al punto che non può più circolare perché magari si è perso l'affidamento io posso andare dall'emittente dire questo è il titolo io ovviamente devo restituire il titolo deteriorato devo rimborsare le spese per un'eventuale nuova emissione ma posso ottenere una nuova emissione quindi in caso di smarrimento sottrazione il rischio interamente a carico del possessore del titolo al portatore in caso di deterioramento c'è la possibilità di chiedere un duplicato titoli come dire un po più complessi rispetto ai titoli al portatore sono i titoli all'ordine esempi di titoli all'ordine sono molti diciamo che tra tutti io mi limiterei a indicare gli assegni peraltro vorrei segnalare che costituiscono ipotesi di titoli all'ordine non soltanto gli assegni bancari ma anche gli assegni circolari laddove la differenza tra l'assegno bancario e l'assegno circolare sta nel fatto che l'assegno circolare dà una garanzia della solvenza che invece l'assegno bancario non dà ma si tratta sempre di titoli all'ordine qual è la caratteristica ovviamente la caratteristica e quindi ciò che differenzia i titoli gli uni dagli altri e ciò che attiene alla legittimazione e al trasferimento dicevamo che siamo in una fase ascendente quindi quando passiamo ai titoli al portatore ai titoli all'ordine come dire la legittimazione si va complicando perché un soggetto quando si può dire legittimato a esigere la prestazione da parte del debitore sicuramente deve avere il possesso del titolo e quindi sotto questo profilo è analogo rispetto al titolo al portatore non basta tuttavia la per la legittimazione solo possesso altrimenti sarebbe un titolo al portatore occorre anche la girata quindi che cos'è la girata e cerchiamo di capire allora intanto per capire il tema della girata bisogna muovere da una premessa stiamo parlando di titoli all'ordine qual è la caratteristica tipica dei titoli all'ordine mentre i titoli al portatore sono dei titoli che non indicano nel documento nella carta chi è il beneficiario il titolo all'ordine come dice la parola all'ordine è un titolo che in origine indica esattamente il beneficiario per pensare a un titolo all'ordine pensate proprio un assegno nel momento in cui c'è l'assegno alla data del pagate la somma di euro 100 a fulanito nel momento io dico a fulanito il titolo all'ordine perché indico esattamente il soggetto ora perché un soggetto possa dunque legittimamente esercitare deve essere o colui all'ordine del quale il titolo è stato emesso e abbia il possesso oppure colui che pur non essendo il soggetto che a cui favore è stato emesso il titolo è un soggetto come dire che sia che risulti giratario del titolo medesimo quindi vediamo la regola il possesso di un titolo all'ordine il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base ad una serie continua di girate e allora perché un soggetto possa esercitare il diritto portato dal titolo all'ordine non basta che abbia il possesso materiale del titolo ma è necessario anche una serie continua di girate che cosa sono questa serie continua di girate pensate sempre all'assegno io emetto un assegno che è a favore di fulanito quindi fulanito nel momento in cui ha l'assegno in mano ed è indicato all'ordine come il destinatario può andare in banca ed esigere l'assegno quindi esigere la prestazione se viceversa fulanito in luogo di come dire voler incassare questa somma volesse trasferire il titolo a un altro soggetto come fa a trasferire lo fa attraverso la consegna del titolo e la girata la girata che cos'è cioè lui appone la sua firma e indica a sua volta il soggetto al quale trasferire quindi scrive pone la sua firma in genere si fa nel retro del documento se pensato un assegno voi lo girate nel momento in cui lo girate c'è scritto per l'altro verso girate quindi il primo prenditore pone la sua firma e dopodiché indica il nome del soggetto a favore del quale compie la girata a questo punto quindi supponiamo pone la sua firma fulanito fulanito e poi indica il nome di mengano in questo caso significa che il soggetto che ha la legittimazione all'esercizio del diritto sarà mengano in quanto è possessore e in quanto esiste una serie continua di girate perché una serie continua di girate il titolo è messo rigiramente a favore di fulanito fulanito lo ha firmato e ha girato il titolo indicando il nome a mengano ovviamente se mengano volesse a sua volta girarlo a un altro soggetto che cosa fa pone la sua firma quindi mengano mengano e indica il nome del nuovo giratario che è in questo caso ciclano in questo caso allora il soggetto legittimato diventa ciclano ciclano se ha il possesso del titolo in forza di questa serie continua di girate può esercitare il suo titolo il diritto quindi come capite nel titolo all'ordine un come dire elemento fondamentale è quello della girata che cos'è quindi la girata la girata intanto deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante attenzione che la girata si compone in questo modo per un verso io indico il soggetto a favore del quale faccio la girata e peraltro faccio la sottoscrizione quindi tecnicamente dovrei scrivere giro a supponiamo che l'assegno è messo a favore di fulano fulano lo voglia girare a mengano quindi l'assegno è messo a favore di fulano che si trova nella prima parte del documento si gira il documento e là ci sarà la dichiarata che dovrebbe avere una dichiarazione di questo tipo giro a favore di mengano e lo firmo fulano attenzione che nell'ipotesi in cui io mi limito a mettere una firma senza indicare il soggetto al quale faccio la girata faccio quella che si chiama una cosiddetta girata in bianco che significa girata in bianco se io non indico chi è la persona girataria cioè a favore del quale ho fatto la girata significa che colunque si trovi in mano quel titolo si potrebbe considerare il giratario ecco perché la cosiddetta girata in bianco è come dire la girata che diciamo rende molto simile il titolo all'ordine al titolo al portatore perché a quel punto una volta che c'è una girata in bianco non serve più indicare il giratario perché colui che si trova in mano il titolo può considerarsi l'ultimo giratario quindi così come la gira è valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario la girata che non contenga l'indicazione del giratario e quindi la cosiddetta girata in bianco e ovviamente la girata in bianco è una girata che rende questo titolo molto simile a quello al portatore o addirittura io posso fare girata al portatore ovviamente la girata al portatore sarebbe equivalente alla girata in bianco nel caso della girata non è ammessa né la possibilità di una condizione nella possibilità di una girata parziale cioè la girata non può essere né condizionata né parziale quindi che cos'è la girata la girata alla fine non è altro che un negozio con il quale un soggetto che è il titolare e cioè il colui che risulta legittimato all'esercizio del diritto può girare quindi trasferire il titolo ad un altro soggetto indicando il soggetto a favore del quale il titolo viene trasferito quindi vedete la forte interconnessione che c'è chi è legittimato all'esercizio del diritto al titolo all'ordine è legittimato chiunque abbia il possesso del titolo primo requisito secondo colui che risulti menzionato in base ad una serie continua di girata come si trasferisce il titolo si trasferisce con la consegna materiale a un altro soggetto ma anche attraverso la girata è una girata particolare che dobbiamo considerare la cosiddetta girata per l'incasso perché una volta che un soggetto come dire si trovi in la girata per l'incasso quando avviene avviene quando c'è uno spasamento tra il debitore e il soggetto che deve seguire la prestazione pensate come dire all'assegno bancario semplice nell'assegno bancario semplice fulano emette un assegno a favore di mengano quando fulano emette un assegno a favore di mengano in realtà nell'assegno c'è anche un meccanismo delegatorio perché fulano attraverso quell'assegno cosa dice una banca paga la somma di euro 100 a mengano quindi è fulano che emette l'assegno a favore di mengano il debitore è fulano ma chi è che deve seguire la prestazione e la banca perché di fatto fulano delega la banca a eseguire il pagamento a favore di mengano quindi in questo caso il soggetto che è legittimato all'esercizio del diritto non andrà a chiedere il pagamento direttamente a fulano che è colui che lo ha emesso ma andrà alla banca perché la banca è delegata da mangano eseguire il pagamento ovviamente la banca nel momento in cui deve eseguire il pagamento deve a sua volta ricevere il titolo e quindi il titolo gli deve essere girato ma questa girata si chiama appunto girata per l'incasso cioè io giro l'assegno alla banca perché la banca me lo paghi quindi la girata all'incasso è come dire una girata particolare è una girata che io faccio al solo fine di ottenere da parte di colui che deve eseguire la prestazione nell'ipotesi in cui fosse diverso dal debitore la esecuzione della prestazione medesima tant'è vero che anche rispetto ai titoli di credito all'ordine dei quali non è ammessa la girata la girata per l'incasso è sempre ammessa perché sempre è necessario come dire eseguire questa girata il titolo di credito all'ordine infatti sebbene come dire può circolare attraverso la girata potrebbe essere apposta una clausola che è la clausola non trasferibile se nel momento in cui viene messo questo titolo è apposta la clausola non trasferibile questo significa che il soggetto all'ordine del quale è emesso il titolo se volete il primo prenditore non può a sua volta girarlo la unica girata che può fare ed è inevitabile è un'eventuale girata per l'incasso non può fare nessun'altra girata differente rispetto alla cosiddetta girata per l'incasso e allora il titolo di credito all'ordine attribuisce la legittimazione all'esercizio del diritto a colui che abbia il possesso del titolo e che risulti menzionato in base ad una serie continua di girate il trasferimento avviene attraverso la consegna e la girata la girata deve essere scritta sul titolo attenzione che generalmente la girata si compone giro questo assegno a favore di e sottoscrivo se ometto la prima parte cioè se non indico il soggetto a favore del quale faccio la girata ricordatevi che siamo in presenza di una girata in bianco la girata in bianco significa che in realtà può essere girato a favore di chiunque perché chiunque abbia il possesso se c'è una girata in bianco può dire io sono il giratario porre a sua volta la girata per l'incasso e ottenere l'incasso il titolo all'ordine proprio come dire perché è previsto un meccanismo di emissione e di circolazione più complicato rispetto a quello tipico del titolo al portatore e quindi c'è l'indicazione del primo dell'emittente c'è l'indicazione del primo prenditore e in ogni caso il soggetto legittimato è solo colui che risulta menzionato in una serie continua di girate è un titolo nel quale come dire il possessore non subisce il rischio come accada nel titolo al portatore dello smarrimento o della sottrazione perché perché il possessore di un titolo all'ordine perché sia legittimato in caso di smarrimento sottrazione o distruzione del titolo può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile quindi è prevista come dire un meccanismo attraverso il quale si può come dire annullare il titolo che sia stato sottratto distrutto o smarrito ovviamente la procedura per ottenere questo annullamento è la procedura di ammortamento è una procedura che implica una serie di garanzie anche a favore del debitore di modo tale che nel momento in cui si svolge la procedura e fino a quando non è esaurita se altri va a pagare a chiedere l'adempimento e il debitore paga si deve considerare liberato esiste però questa procedura una procedura incomplessa che merita un'analisi disciplinare che ovviamente qui non facciamo ma serve solo per darvi un quadro di della possibilità che esiste è possibile l'ammortamento e veniamo come dire all'ultima tipologia i titoli nominativi siamo in questa fase come dire ascendente siamo partiti dal titolo di credito più semplice passiamo al titolo intermedio adesso arriviamo al titolo più complesso titolo più complesso perché è un titolo il titolo nominativo classico esempio il titolo nominativo anche se adesso oggi con la smaterializzazione dei titoli azionari è un po più meno rilevante era la classica come dire azione di una società perché chi è legittimato all'esercizio dei diritti indicati nell'azione non solo colui che aveva il possesso dell'azione materiale non solo colui che risultava legittimato in base ad una serie continua di girate ma anche colui che risultava intestatario del titolo nel libro dell'emittente quindi vedete qui come dire ci siamo ulteriormente si complica ulteriormente la situazione il titolo nominativo è un titolo che viene emesso da un soggetto emittente a favore di un altro soggetto che è il portatore non solo ma viene anche annotato su un registro dell'emittente che è stato emesso questo titolo a favore di questo soggetto e allora chi è che è legittimato all'esercizio del diritto di credito portato da un titolo nominativo il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente quindi non basta avere il possesso non basta come dire risultare il intestatario per effetto di una serie continua di girate ma è necessario anche una intestazione a favore nel titolo del registro dell'emittente insomma è come se la società dopo prima prende un foglio dove documenta l'azione questa azione viene messa a favore di fulano e ovviamente fulano può farla circolare ma c'è anche un registro proprio nel quale c'è anche un registro proprio nel quale la società indica che quell'azione con quel numero è stata emessa a favore di fulano quindi qui il trasferimento come dire è un trasferimento più complesso perché non solo è necessario che io consegni il titolo non solo è necessario che faccia la girata ma è necessario anche che io chieda il cambio dell'intestazione quindi se io sono fulano intestatario dovrò dire alla società guarda cara che io sto trasferendo questa mia azione a mengano gli ho già consegnato il titolo io ho già girato il titolo ti chiedo quindi di annotare la nuova intestazione a favore di fulano il trasferimento del titolo numerativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sia sul titolo quindi attraverso il meccanismo della girata sia nel registro dell'emittente oppure attraverso il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare e in ogni caso se viene fatto il rilascio di un nuovo documento deve essere fatta un'annotazione del registro come vedete qui la circolazione diventa ancora più complessa siamo partiti dai titoli del portatore dove la circolazione è semplice perché avviene tutto sulla base del possesso siamo passati ai titoli all'ordine in cui c'è una abbastanza semplificazione perché il legittimazione e trasferimento avvengono attraverso il possesso della girata e siamo giunti ai titoli nominativi in cui il sistema circolatorio diventa molto più complesso perché occorre anche la intestazione quindi non basta che io giri il titolo ma è necessario che io chieda all'emittente la annotazione del nuovo trasferimento sicché se dal registro dell'emittente non risulta il nuovo trasferimento il soggetto non si può considerare legittimato all'esercizio inoltre salvo diversa disposizione della legge il titolo nominativo può essere trasferite anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambi l'agente di cambio in ipotesi un po più desueta mentre la girata autentica da un notaio diventa un'ipotesi molto più semplice e ovviamente anche per i titoli nominativi a maggior ragione se già era possibile con i titoli all'ordine sicuramente diventa certamente possibile con riferimento ai titoli nominativi la possibilità di ottenere un ammortamento ovviamente le regole per ottenere l'ammortamento dei titoli nominativi sono identiche a quelle dell'ammortamento dei titoli all'ordine quindi di fatto la disciplina è la medesima quindi nei titoli nominativi come nei titoli all'ordine il rischio dello smarrimento della sottrazione o della distruzione non è interamente gravato sull'intestatario o sul giratario perché attraverso la denunzia e attraverso il procedimento di ammortamento costoro possono come dire sottrarsi al rischio ovviamente se la procedura di ammortamento non fosse completata e ci fosse qualcun altro che in un modo o in un altro avesse conseguito la legittimazione all'esercizio del titolo automaticamente assume il rischio se accade questo poi ovviamente tra le parti dovranno regolare i loro rapporti badate bene che in questa lezione abbiamo fatto come dire un quadro molto semplice riassuntivo di quelli che sono i titoli di credito e quindi titoli di credito all'ordine al portatore nominativi attenzione da non confondere con altri titoli di credito come per esempio i titoli di legittimazione ad una prestazione un biglietto per esempio un biglietto per un concerto o un biglietto per un trasporto pubblico non sono titoli di credito in questo senso ma sono piuttosto titoli di legittimazione che è una cosa diversa un conto è il titolo di credito all'ordine portatore all'ordine nominativo qui quando parliamo di titolo di credito parliamo di un documento il quale incorpora un diritto di credito il quale diritto di credito attribuisce la possibilità di esercitare il diritto a colui che ne abbia la legittimazione e che è soggetta ad una circolazione diversa da quella tipica del titolo di credito e che è quella che abbiamo visto in cambio un biglietto come dire per assistere a un concerto per prendere un mezzo pubblico di trasporto non sono titoli di credito in senso proprio ma si chiamano sono titoli di legittimazione che significa titoli di legittimazione sono documenti i quali attribuiscono a colui che sia il portatore il diritto a pretendere la prestazione ma sono dei titoli di legittimazione cioè essi stessi non sono dei titoli di credito perché non c'è un soggetto che è obbligato a eseguire la prestazione ma quel determinato documento mi attribuisce la legittimazione a esigere una determinata prestazione che non consiste nell'adempimento di un'obbligazione in senso tecnico quindi per esempio quelli si chiamano titoli di legittimazione a un servizio titolo di legittimazione a un trasporto che è diverso come dire dal titolo di credito quindi i titoli di credito fondamentalmente sono tre i titoli al portatore classico esempio del denaro i titoli all'ordine che sono quelli più importanti classico esempio gli assegni o le cambiali e i titoli di credito nominativi ultimo dato in genere nel titolo di credito al portatore l'emittente è anche il debitore nel titolo di credito nominativo l'emittente è anche il debitore nel titolo di credito all'ordine accade che l'emittente il debitore però il debitore potrebbe delegare a eseguire il pagamento un terzo questo avviene per esempio nel sistema dei titoli di credito all'ordine assegni perché se ci pensate nell'assegno c'è questo fenomeno delegatorio e allora qual è la differenza tra un assegno bancario e un assegno circolare la differenza è proprio questa cioè la triangolazione o no del rapporto l'assegno circolare è un assegno che viene emesso dalla banca per carità viene emesso dalla banca su richiesta del cliente quindi il soggetto che è il debitore è effettivamente la banca che ha precostituito ovviamente a favore del soggetto al quale lo emette la sua riserva in cambio quindi significa che l'emittente il debitore di un assegno circolare è proprio la banca nell'assegno bancario invece il debitore è colui che emette il titolo però colui che emette il titolo non è il soggetto che va a eseguire la prestazione perché delega per l'esecuzione della prestazione a un altro soggetto alla banca ed in effetti se io ricevo un assegno bancario quindi se fulano emette un assegno bancario a favore di mengano supponiamo che non abbia la clausola non trasferibile e mengano trasferisce a zutano zutano non è che può andare da fulano e dire pagami ma deve andare alla banca ovviamente va alla banca perché non perché la banca sia il debitore ma perché è fulano che ha incaricato la banca di pagare e allora la differenza dell'assegno circolare dell'assegno bancario è questa entrambi sono titoli di credito all'ordine cioè titoli di credito emessi a favore di un soggetto i quali circolano ove possibile attraverso una serie di girate soltanto che il titolo di credito all'ordine consistente nell'assegno circolare è un assegno nel quale il debitore è la banca che emette il titolo quindi la banca emette il titolo ed è il debitore nel caso dell'assegno circolare il soggetto che emette il titolo che è il debitore in realtà non è colui che deve eseguire la prestazione perché delega un altro nel caso la banca a eseguire la prestazione l'importante però in questa lezione e nell'ambito come dire di un corso di istituzioni di diritto privato con riferimento alla disciplina titoli di credito e conoscere la circolazione titoli di credito al portatore circolano legittimazione circolazione attraverso il possesso titoli all'ordine legittimazione e circolazione attraverso possesso e serie continua di girata titoli nominativi legittimazione e trasferimento attraverso possesso girata intestazione